Buon giovedì 12 novembre. Approssimiamoci all'altro, facciamoci prossimo nei confronti dell'altro, con gentilezza, con la disponibilità d'animo di porci con delicata presenza, senza imporre nulla, ma semplicemente disponendoci all'ascolto, perché questa è la gentilezza autentica, capace di accogliere qualsiasi dimensione umana, segnata dalla gioia o dal dolore, capace di accogliere la diversità, anche la più stridente rispetto a quello che noi pensiamo. Il rapporto con l'altro deve essere improntato a questa delicata gentilezza, che nel suo intimo coltiva la dimensione dell'amore e l'ascolto della parola che salva. Buona giornata a tutti.